buongiorno a tutti sono Michele Bergamin del negozio il sano dormire in corso Emanuele Filiberto Alecco centro specifico del sonno specializzato nella vendita di materassi e reti ad oga marchio manifattura falomo oggi vi parlo di questo interessante articolo scopriamo assieme di cosa si tratta sono qui oggi per parlarvi di una comodità riguardo alla nostra camera da letto si parla della rete ergo movie una rete ad oga e motorizzata che ci permette di assumere determinate posizioni per dormire più comodamente per poter leggere per poter anche solamente rilassare le gambe nei momenti di maggior stress questa rete motorizzata lavora al meglio con materassi molto elastici tipo quelli in espanso oppure in alternativa in lattice il motore a scomparsa si trova in linea con il telaio della rete ad oga quindi non da fastidio nel caso in cui dovessimo pulire al di sotto del del letto in telaiatura e le doghe sono fatte in legno di faggio multistrato in realtà c'è un doppio telaio c'è quello esterno e quello portante che può essere montato sulle gambe direttamente della rete oppure può andare in appoggio all'interno del letto il secondo telaio è quello interno mobile e quello che ci permette di ottenere le posizioni volute attraverso una pulsantiera che vi vado ad illustrare la nostra pulsantiera che si può avere con filo oppure con radiocomando quindi senza filo per non avere ulteriori ingombri è composta da una serie di sei pulsanti i primi due servono per governare la zona della testa del busto gli altri due quelli centrali servono per alzare la zona delle gambe dei piedi e infine i due ultimi pulsanti servono per andare ad alzare contemporaneamente oppure abbassare le due porzioni di rete per oggi è tutto grazie dell'attenzione e vi invitiamo a provare di persona il prodotto nel nostro showroom alecco per maggiori informazioni visitate il sito all'indirizzo www.materassilecco.it se vi è piaciuto questo video mettete mi piace o iscrivetevi al nostro canale youtube e ricordate che il buongiorno si vede dal materasso